Un uomo di sport ma anche di politica e vita senza tempo, questo è stato Pietro Mennea, icona di Barletta e della Puglia nel mondo, dieci anni esatti fa la sua prematura scomparsa a soli 60 anni, lui che ha scritto pagine importanti nella storia dell'atletica, è stato primatista mondiale dal 79 al 96 dei 200 metri piani, quel 19 secondi e 72 che ancora oggi è record europeo e medaglia d'oro a Mosca nelle Olimpiadi del 1980. La freccia del sud è stata raccontata e ricordata in un libro dal titolo emblematico, l'uomo, l'atleta, il campione. Il volume della Gazzetta del Mezzogiorno è stato presentato al circolo tennis di Bari. L'eredità di un uomo che quando si poneva dei traguardi capabiamente con intelligenza, con i valori fondamentali di un uomo di sport li ha sempre conseguiti e infatti come lui sosteneva molti li ho battuti, sono stato battuto ma a mia volta ho preso la mia rivincita. Purtroppo ci ha lasciato un'eredità molto vissuta, intensamente e profondamente vissuta nei suoi appena 60 anni di vita, ma accidenti che 60 anni. Pietro Mennea qualche piccolo legame lo aveva anche col tennis. Isidoro Alvisi della Federazione Italiana Tennis spiega il perché. Lui era molto curioso, quindi si interessava del tennis anche perché a Formia dove lui viveva era anche la sede del centro tecnico nazionale di tennis, quindi chi faceva parte del giro della nazionale frequentava Formia tenisticamente, aveva a che fare con Pietro Mennea, con il vertice dell'atletica mondiale. Il confronto ovviamente era impari perché come lavorava lui era imparagonabile.